Nel Milan indisponibili Savicevic, Cruz e Zige, Maldini torna a sinistra. Bari senza Ventola e Mazinga, ma con Albeck e Guerrero. Fascetti recupera Ingeson. Da un rinvio sbagliato di Mancini, Franco Mancini, la prima chance per il Milan. Klaivert, una spallata necruse che poi riesce comunque a deviare, anche se con un po' di fortuna, in calcio d'angolo sulla conclusione dell'olandese. Il movimento di Weah, Boban vede un varco prova con il destro. Ancora una leggerezza difensiva delle Bari. Stavolta è De Rosa che sbaglia il dribbling su Weah, che aspetta l'arrivo di Ba, che colpisce di piatto destro, si salva Mancini. Albertini pressato sbaglia, Guerrero prova il pallonetto. Capello dopo 20 minuti del primo tempo non è soddisfatto del gioco della sua squadra. Punizione di Albertini. Klaivert fa da torre e prova la girata di volo Capitan Maldini. Costa Curta partecipa alla costruzione di questa manovra. Controllo d'esterno destro e conclusione di Boban. Ba e Maldini stavolta di testa. Non trova il bersaglio ma è impressionante lo stacco del Capitano Rossonero. Guerrero, la sua squadra finora poco incisiva in attacco, prova a pescare il jolly dalla distanza ed è un destro abbastanza insidioso come possiamo apprezzare in questo replay che ci propone Maurizio Tonini nel suo montaggio. Un'altra chance per Sala, in inserimento offensivo su punizione di Volpi. Palla non lontano dal palo di sinistra. Boban porta via la palla a Ingeson, poi sceglie bene il tempo e la misura della profondità per Klaivert. Grande chance per l'Olandese che però chiude troppo l'angolo del suo tiro. Klaivert ringrazia Boban ma ci sono anche dei fischi al termine del primo tempo, capello rabbugliato. Si comincia la ripresa con Olivares al posto dell'inconcludente Albeck. UEA vede l'inserimento di Cardone. Il cross del laterale destro sembra molto largo ma arretra Leonardo. Sceglie bene il tempo dell'inserimento Boban e il Milan va in vantaggio. E il primo gol in questo campionato per Zorro-Boban, rivediamo. Boban segue l'azione, molto intelligente Leonardo. E il croato trova il corridoio giusto. Ancora un replay. La finta di Ba su Garzia. Buon cross e Leonardo prova direttamente la conclusione stavolta. Entra De Ascentis al posto di Bressan ma il Milan chiude la partita. Un'azione che comincia ancora da UEA. Ottimo il taglio per Ba. Klaivert, tocco leggero, palo interno e rete. Klaivert, un gol che può essere davvero molto importante per un giocatore estremamente discusso. Rivediamo il suggerimento di UEA. Perfetta la misura dell'assist di Dubai, Klaivert. Gol in leggerezza. E stavolta al 37esimo ci sono applausi per Klaivert, sostituito da Anderson. Klaivert che ringrazia il pubblico rosso-nero del Meazza. Non succede più nulla, fischia la fine Bettin. Milan 2, Bari 0.